Musica Ciao a tutti ragazzi da Rissi96 e benvenuti in questo nuovo episodio di questa nuova serie Non è il primo episodio ma questo è un episodio di presentazione E con noi ci sarà il nostro amico Ciclope Ciclope, saluta Eh, ciao Come va? Bene? E ci sarà anche Umik, sai? Ciao a tutti ragazzi Questi sono i nostri bodyguard Esatto Il mio è più grosso però Lo so già che tipo diranno così la verruzza su questa frase Vabbè, allora ragazzi questo è l'episodio di presentazione della nuova serie giocata nell'RPG Immersion Pack della Feed the Beast Server offerto da Gamehosting Esatto Eccolo Trovate il link in descrizione con anche un codice sconto anche se l'ho dato nel primo episodio Lo ridico Con un codice sconto 10% su server Diciamo sempre ma Quindi se volete il vostro primo server il primo mese avete 10% di sconto che sono tanti Esatto E noi ringraziamo un po' Abbiamo già registrato l'episodio 1 Come detto dal mio punto Esatto 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 E poi l'abbiamo un villaggetto Poi vedrete tutto nel primo episodio Che verrà caricato sul canale di Ulisse Infatti questa è una cosa importante Ovvero che ci sarà un episodio sul canale di Ulisse E quello successivo nel mio Quindi in questo caso il primo episodio di Ulisse Secondo mio Terzo Ulisse Quarto mio Quinto Ulisse Quindi se non volete perdere questi episodi Vi consiglio di iscrivervi al canale di Umi E di non perdere i suoi figli Idem Iscrivervi al canale di Ulisse E guardare anche la sua visuale E che altro? Cosa devo dire? Lago di meno Ah ok Questo è importante E Optifine giusto? No E cosa? Io non metto mai l'Optifine Va bene E diciamo che tipo E' bugata anche La damage indicator Ma vabbè dettagli Bisogna vedere se riusciamo a risolverla Se no non è un problema Diciamo la barra che vedete su un'altra sinistra Su in alto a sinistra Che indica La salute Dell'essere Esatto Proviamo a uccidere tipo una peccola Guarda che non funziona Non so ancora il tipo che era bugato Guardate le faccio vedere anch'io Non si abbassa Come vedete No Pensavo che morisse affogata No invece E' altra cosa Forse aggiungeremo una volta la magia Che è l'Ars Magica Non la Towncraft Perché la Towncraft Vederemo più avanti E' più da ricerca Non mi piace sinceramente E quindi Ars Magica Voi me la spiegherai Qual è questa E' carina In caso anche la Towncraft Dai che è carina quella Vedremo Comunque La aggiungeremo E Decideremo poi in futuro Se arriveremo Un tot di spettatori Abbastanza grandi Di rinascere anche la mappa Un tot episodi E ragazzi io Direi che questo primo episodio Va bene così L'episodio 0 Esatto L'episodio di presentazione La serie Domani uscirà l'episodio 1 Oppure oggi stesso Non lo so Vedremo Sabato e domenica Vedremo Vedremo Oggi è sabato Quindi vedremo E Non so Dai salutiamo Allora Da Omikasai Tutto Che fa questo tuffo Da 10 punti Oh E anche Un tuffo da 10 punti Ragazzi Eeeh Eccolo Eccolo